Sono oltre 530.000 i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna, pari a quasi il 12% della popolazione complessiva. Questo il dato che è emerso in seguito all'analisi della Commissione Politiche per la Salute, presieduta da Paolo Zoffoli e dall'assessore Elisabetta Gualmini. Numeri che impressionano se si tiene conto degli andamenti demografici registrati dall'anno 2000 in poi, nei quali si vede come la popolazione residente nella nostra regione sia aumentata di 560.000 persone. Di queste circa 120.000 sono italiani, mentre oltre 430.000 è rappresentata da cittadini stranieri che in termini percentuali registrano un incremento del 468%. Un dato che ha fatto drizzare le orecchie a qualcuno, in particolare ai consiglieri della Lega come Daniele Marchetti, preoccupati da questa escalation, anche se da un questionario promosso dalla regione emerge un quadro di generale apprezzamento per come viene trattato il tema dell'accoglienza sul nostro territorio. Da questo punto di vista uno dei temi più sensibili è certamente quello del lavoro, con la banca dati dell'Inail che nell'anno 2016 ha registrato oltre 300.000 stranieri regolarmente assunti come dipendenti, il 20,6% del totale, mentre per quanto riguarda il versante autonomo si registra una graduale crescita di titolari di imprese stranieri. Numeri certificati anche dall'indagine sul prodotto interno lordo creato dai lavoratori immigrati, che rappresenta il 12% del totale. nonostante le cifre parlino quindi di un processo di inserimento che prosegue per il verso giusto, sono ancora tanti gli stranieri in difficoltà economica, lo testimoniano le tante domande di assegni familiari ed integrazione al reddito presentati negli ultimi anni, che vedono un immigrato su due presentare richiesta di sussidio contro una percentuale nettamente più bassa, 28,3% di italiani.